Ciao, ciao a tutti. Allora, siccome avete anche da ridire, come è normale che sia, per il vostro modo di essere, avete da ridire anche sul nostro business, il nostro marketing, il nostro modo di muoverci con il business, merchandising, marketing online, aprirà il nuovo gruppo Facebook. Ed ecco, vi mostro. Allora, alla mia destra, alla vostra sinistra, eccolo qua, quello che sappiamo fare. Ovvero, sold out, shop full, sold out, finish in one day, in un giorno. Ascoltatemi bene. Questo è il nostro stile, approfittare qualsiasi cosa per renderlo un marchio di fabbrica, per renderlo famoso, per renderci visibili all'occhi del globo. E alla mia, ecco qua, scusami, la regia se può, ecco qua. E qui abbiamo, alla mia sinistra, per voi la destra, ecco il loro modo di fare marketing. Come potete vedere. E poi non da ridire, perché non sold out, qualsiasi cosa mettiamo in vendita online. Ecco qua. Questo, signori, è il loro modo di fare shopping. Ecco qua. Abbassarsi le brache con questi obrobri qui. E soprattutto, nello stadio, casa nostra. Ma meno male che ce ne andiamo. Meno male. Lo più lontani possibili, il nostro, perché condividere con questi soggetti qui, fanno queste cazzate qui, che ci abbassano di questo livello, capite bene che non penso sia una cosa tanto normale. Allora, scegliete voi. Ditemi chi più meglio. Mi stai dicendo chi più meglio, scusate la grammatica. Alla vostra destra, cioè alla vostra sinistra, il vero shop, il vero stile marketing, marchio AC Milan, o la vostra destra, vero marchio transgender, transformer, fate un po' voi, insomma, poi dite, e poi avrei venduto la maglia di giro in porta, qui sappiamo approfittare, sappiamo fare business, sappiamo dove guadagnare e come muoverci. Voi, a Zang, a proposito, si può più muovere dalla Cina, non lo fanno più sci? Mmm, vabbè.